La giornata mondiale dell'ambiente è una giornata straordinariamente importante, soprattutto se la si vive con atti concreti come quello che stiamo compiendo a Capaci, puliamo una spiaggia ma caratterizziamo i rifiuti insieme all'ARPE, insieme ai cittadini, insieme all'amministrazione comunale di Capaci e al suo sindaco. Una sinergia istituzionale che vede poi nella partecipazione dei cittadini, non per niente Citizen Science, quel valore aggiunto che vuole essere per un verso sensibilizzazione ma per un altro verso vuole dare il segno tangibile di una filosofia di vita che deve cambiare, che sta cambiando, che anche con la volontà forte di questo governo regionale, perché no di questo assessore, deve cambiare in meglio. E' quindi un'azione sempre più forte da parte di questo governo perché la tutela dell'ambiente e la sua valorizzazione sia sempre più al centro dell'agenda di tutte le istituzioni. Tante cicche di sigaretta, ho trovato qualche oggetto relativo alla pesca, ami arrugginiti, quindi anche pericolosi. Sì, comunque prevalentemente plastica. Oggi è la giornata dell'ambiente e soprattutto il vostro è un gesto importante. Sì, ora io e i ragazzi siamo stati coinvolti per conoscenza diretta di una delle persone che organizza l'evento ma siamo orgogliosi di partecipare, soprattutto con i ragazzi. Una giornata importante, cosa state trovando in spiaggia? Ma io sto segnando tutto, non so cosa hanno trovato, cioè nel senso hanno trovato di tutto. Sì, veramente un sacco di cose, tappi in abbondanza, molte cicche di sigaretta, proprio tantissime, anche rifiuti molto grandi come per esempio abbiamo trovato una felpa, un'asse di legno, diciamo, un sacco di roba, prevalentemente plastica comunque. Grazie. Grazie.